Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'autonomia scolastica, di che cos'è, di quando è stata introdotta, di quando è stata applicata e soprattutto, come possiamo ricordarla al meglio in vista del nuovo concorso per docenti. L'autonomia scolastica è stata introdotta dalla legge numero 59 del 97, chiamata Riforma Bassanini. Nella Riforma Bassanini, precisamente nell'articolo 21, si conferisce al governo il potere di riorganizzare il servizio istruzione mediante il potenziamento dell'autonomia intestata alle istituzioni scolastiche ed educative. Successivamente, l'autonomia scolastica è stata applicata dalla legge del 18 dicembre del 97, la numero 440, e fu poi realizzata dal DPR 275 del 99, che disciplina l'autonomia scolastica e la interpreta e la dichiara come garanzia di quel pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Con la legge 3 del 18 ottobre 2001, l'autonomia delle istituzioni scolastiche acquisisce rango costituzionale. Infatti l'articolo 117 modifica il titolo quinto della parte seconda della Costituzione nel definire le materie di legislazione concorrente in cui spetta alle regioni la potestà di legiferare sulla base dei principi fondamentali dello Stato e quindi inserisce l'istruzione ma salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e attraverso questa legge l'istituzione scolastica diventa soggetto giuridico e il DS diretto datore di lavoro. L'autonomia scolastica viene applicata dalla legge 107, chiamata anche Buona Scuola, del 2015 e così abbiamo completato quello che è stato l'itinere burocratico e legislativo che hanno determinato l'autonomia scolastica. Ma in realtà che cos'è questa autonomia scolastica? Le leggi sull'autonomia scolastica sono state fatte per far sì che nelle scuole italiane ci fossero le condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di relazione per rendere l'attività educativa più attenta ai bisogni didattici degli studenti. Questa autonomia delle singole scuole si compone in autonomia didattica, autonomia organizzativa ed autonomia di ricerca. Ed è questo il contenuto del DPR numero 275 del 99. L'autonomia didattica permette la formulazione dei curricoli a livello di scuole. Ogni scuola in base alle indicazioni nazionali del Ministero della Pubblica Istruzione formula obiettivi formativi generali e obiettivi formativi specifici. Non ci sono programmi nazionali prescrittivi, ma indicazioni sui traguardi delle competenze che ogni studente dovrà possedere a fine anno. E tutto l'insegnamento deve essere regolato sui ritmi di apprendimento del singolo alunno. I curricoli sono composti da tre parti. Una quota obbligatoria nazionale con discipline ed attività obbligatorie stabilite dal Ministero insieme al loro relativo monteore minimo. Una quota di discipline obbligatorie di istituto relative a diversi indirizzi. e una quota di discipline liberamente scelte dalle scuole. I curricoli possono poi essere integrati con discipline ed attività facoltative. Per questo motivo le scuole possono attivare dei corsi didattici individualizzati, rompere il gruppo classe per particolari attività, unire delle discipline in aree disciplinari, realizzare percorsi di accoglienza, continuità e orientamento e predisporre percorsi di recupero e di orientamento. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e permette alle scuole di modificare il calendario scolastico, di attuare ogni modalità organizzativa del corpo docente che sia coerente con gli obiettivi generali, organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curriculum, mantenendo non meno di 5 giorni di lezione alla settimana e rispettando il monte ore annuale. L'autonomia di sperimentazione, di ricerca e sviluppo invece si ha precisamente nell'elaborazione nel piano dell'offerta formativa con il quale la scuola manifesta la propria responsabilità progettuale che si concretizza in scelte didattiche ed organizzative ben precise. Poiché esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo comporta la progettazione del proprio servizio e non la semplice proceduralizzazione, tutte le altre scelte organizzative e didattiche ne rappresentano la conseguenza. Infatti le coordinate essenziali della ricerca, sperimentazione e sviluppo sono la libertà di insegnamento, la necessità di dare risposte mirate ai bisogni educativi degli studenti e alle attese delle famiglie e del territorio, la coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Per questo motivo, in questa prospettiva, il cuore della ricerca è il curriculum, ovvero la complessa progettazione dell'offerta di istruzione perché la sua stessa natura comporta scelte cruciali sotto diversi aspetti disciplinari, psicopedagogici, metodologici, didattici, organizzativi e antropologici. Ed ecco l'ultima chiosa per quanto riguarda l'autonomia, ma faccio riferimento all'autonomia finanziaria che consiste nella gestione autonoma dei fondi pervenuti per contributi statali, tasse e contributi degli studenti più altre forme di autofinanziamento e le istituzioni scolastiche vengono fornite di autonomia contabile e amministrativa e di bilancio e sulla base di quanto evidenziato nel DM numero 44 del primo febbraio 2001. Spero di esserti stato d'aiuto, se ti va supportami, lascia un like, lascia un commento e scrivimi pure quando vuoi. Alla prossima!